Benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a fare le quest rimaste che sono un bel po' Quindi dal 69 al 74 oppure fino all'82 Vedremo, vedremo gente Detto ciò, iniziamo Corso avanzato di salto a parete, vuoi allenarti nei salti a parete? No, benone, ho preparato dei dislivelli belli alti in questo livello, vuoi provarlo? Per seguire un salto a parete basta scivolare lungo un muro e premere B 3 stelle su 4, quindi abbastanza difficile Stiamo completando letteralmente tutto il gioco al 100% Quindi se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Detto ciò, mi sa chi è la gravità? E di mena, e di mena, e di meno qui Quindi Let's Meno male che sono stato fermo E let's go Vai Odio questo gioco Allora, è molto difficile fare i salti a parete Soprattutto quando ci stanno di mezzo gli ostacoli E quindi andiamo Vai Eh, devo aspettare Ok Questo abbiamo fatto Oh no E' a tempismo Perché? Allora, uno Uno, due, tre Uno Uno Ok Finalmente ce l'ho fatta Ora Ok Ce l'ho fatta Molto male Molto male Ok E ce l'ho fatta Andiamo avanti Mamma mia Io odio i salti a parete Ma detto ciò L'ultimo salto a parete Gente E ce l'abbiamo fatta A raggiungere La cima Detto ciò Andiamo avanti E continuiamo con queste Subquest Perché alla fine sono tutte subquest In teoria Quindi raccogliamo ricompense Forse raggiungeremo Un sacco Ma dico Un sacco di monete Pioggia gelida Ok Ho creato Un percorso ad ostacoli Per fare Far fare un po' di ginnastica Ai ragazzi Devono esercitarsi Nel salto in lungo Così li faccio scattare Con Y E con salto R Ok Quindi Bello difficile Let's go Mamma mia Tengo sempre per un minuto Y E Let's go Ok 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 E non dovevo saltare Però molto divertente Devo dire la verità E poi questa canzone Io l'adoro tantissimo Quindi Fra tre Due Uno Let's go Tu Tutututu Tututututu Tututututun Tutututu Tututututu Tutututu Let's go Vai ok devo stare attento ora 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 o no non avevo visto che c'era il coso ma come bisognerebbe farlo per andare lì sopra non lo so minimamente detto ciò andiamo avanti ora let's go let's go vai salta insieme ai lampaclima qui nell'isola c'è un clima imprevedibile guarda una nuvola di pioggia e ce l'abbiamo fatta ok perfetto mamma mia è stato divertente veloce e spensierato andiamo avanti bisogna raccogliere più monete possibile cupa on off è il momento di concentrarsi e mettere alla prova la tua coordinazione perfetto qui finiremo domani attiva l'interruttore on off e fai avanzare il cupa ce la farai ad arrivare al traguardo vedremo ok andiamo tutto 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 siamo tornati negli anni ora non devo aspettare ok ok e let's go tutto 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 quanto è bella questa sigla up fra virgolette ok ho sbagliato tanto o ma porca miseria a come faccio non lo so spero 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 che tu me lo dirai ok no tutto tutto non ho capito molto bene questa cosa mannaggia a me a te non devo poi cambia da sola no ok 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 perfetto let's go tutto 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 oh no tipo ora E ce l'ho fatta finalmente Andiamo avanti Perché se no non finisco più Mannaggia Cioè in realtà 200 secondi Mancano Ok Nel frattempo facciamo così E devo farla arrivare qui Quindi ora Ok perfetto Una volta arrivata qui La devo schiacciare Per rompere i blocchi Mamma mia Uh Mamma mia Mi poteva avvisare qualcuno Ok per fortuna E possiamo fare così Let's go Mamma mia ce l'abbiamo fatta Siamo morti una volta è vero Però ce l'abbiamo fatta Ora Facciamo la terza prova Let's go Scarpa tra le nuvole Volevo provare questo livello Ma non ho proprio tempo Ti dispiacerebbe farlo tu al posto mio Ho sentito dire che Se indossi una scarpa di goomba Puoi camminare sugli Sgranocchi Ok Sì è vero Sì è vero Quindi let's go Ora Gente No Let's go Vai Ok Spendiamo che Possiamo fare Tante belle Cose Ok È un po' antipatico eh Questo livello Non ce la faccio eh Vediamo Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu Uh Uff Ok no 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 e mo e mo devo resistere vai scendi scendi immediatamente grazie cerchiamo di andare avanti forse non era contemplato ma chissene invece si era contemplatissimo 1 2 3 4 5 e let's go per il fuoco ok il fiore di fuoco che se ce la faccio prenderlo e bene e let's go il cupi strisce ok questa è più gestibile ok mannaggia lui ma pure mannaggia e sono morto ok allora qui c'ho un piccolo problema ma piccolissimo eh come caspita faccio detto ciò per me è bellissima questa canzone ok devo semplicemente fare così ok ok maica scarpa no vabbè però così è troppo ora andiamo di qua prendiamo la scarpa gigante volante poi facciamo così one up ok ok let's go ah categnaccio via e ce l'abbiamo fatta incredibile come sono morto proprio alla fine dei livelli incredibile ok praticamente abbiamo fatto in realtà un bel progresso manca ormai soltanto il 9% gente è castello dei fiammetti esatto quindi let's go non ho letto diamine allora quindi perché questo così deve fare ok noi andiamo di qua aspettiamo ovviamente la moneta da 10 ok 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 andiamo di qua andiamo di qua per sicurezza prendiamo il check ok poi cosa mi aspetta qualcosa di molto terribile ok ok fiore di fuoco fiori di fuoco fiori di fuoco non mi fa niente questo let's go mannaggia lui l'anella ok siamo belli Ti attenti Mannaggia i tartossi Mannaggia Ai i tartossi Si o no Come posso Sopravvivere Io di certo non lo so Ma tu Lucky tu Mi puoi essere utile o no Mannaggia te Oh lucky tu Lucky tu La nuvola Mela dai tu Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Abbiamo finito pure questo livello Molto easy Easy busy lemon squeezy Ma dopo ciò Gente voglio chiedervi Quale di questi livelli Per ora vi sta piacendo di più Guardate tutto il video E rispondete Alla fine del video Ovviamente Detto ciò 6000 monete Perfetto E andiamo Vuoi unicarico? Serviti pure Grazie Banco dei calamachi E non l'ho letto Quell'altro Incredibile Ho piazzato un po' di calamachi Su questo pianeta A bassa gravità In tutto ce ne sono 10 Sconfiggi tutti E raggiungi il treguardo Premi B Quando salti Su un nemico E rimbalzerai Molto più in alto Let's go Ok Ce la faccio Ce la faccio Gente ce la faccio Ok Bisogna premere B Per Planare Ok Ok Basta tenere premuto B Giusto? Sì Ok Non ci stanno Problemi Eh? Eh? E poi? Dov'è? Dov'è? Ok Ok Però voglio prendere un po' tutto questo E poi Let's go Abbiamo finito Pum 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 Turuturutu Turuturutu Ok È stato bello Ah Non so se riusciremo oggi a finire completamente tutto Ma penso di sì Ce ne mancano Una Due Tre Quattro Cinque Lucky Tu Buono Lucky Tu Cattivo Eh? Facciamo Queste cinque Nel prossimo episodio Gente Per questioni di tempo Detto ciò Noi ci salutiamo E ci vediamo in prossimo video Pronti? Let's go Noi ci vediamo in prossimo video Noi ci vediamo in prossimo video